Ciao a tutti, sono Enza Botti, vengo da Vallo della Lucania in provincia di Salerno, ho 20 anni. Studio danza classica, moderna e flamenca da circa 15 anni. Ce l'ha fatta, Enza Botti, ventenne di Vallo della Lucania, ha passato le preselezioni per Miss Italia Curvi conquistando Jesolo e non solo. A renderlo noto è il fidanzato di Enza tramite il suo profilo Facebook. Il ragazzo ha postato una foto dell'aspirante Miss e ha scritto Ce l'hai fatta, adesso vogliamo a Jesolo per il prossimo obiettivo, più forti che mai, ce la faremo. A confermare la letta notizia è poi il padre della ragazza, Gianni Botti, che aggiunge che sua figlia si è classificata tra le prime tre. Non avevo nessun dubbio, ora tutti insieme per la vittoria finale, commenta un'amica sul profilo di Facebook. Dal giorno 1 settembre la giovane Vallese sarà a Jesolo per affrontare il giudizio della commissione tecnica delle pre-finali nazionali del concorso, presieduta da Enrico Luccherini, che sceglierà, tra 210 Miss, le 33 finaliste.